La vicenda di Ilaria Capo aggrida ancora oggi vendetta, perché i cicloni giudiziari possono anche passare e lasciare indenne la fedina penale, ma la ferita rimane, toglie il sonno, raffredda la gioia di vivere e la fiducia nel prossimo. Basta guardarla negli occhi la professoressa, virologa di fama internazionale, per capire che il livido è ancora lì a segnarle il cuore. È il 2014 quando la scienziata, nel frattempo eletta alla Camera con scelta civica, finisce nel tritacarne. L'Espresso la sbatte in prima pagina, rivelando l'avvio di un'indagine che la indica qualemente criminale di un complesso traffico di virus e vaccini. Tutto falso, infondato e se non ci fossero di mezzo la vita e la dignità di una persona, persino grottesco. L'impianto accusatorio fa acqua da tutte le parti, le prove non esistono, così come il reato, tanto che si arriva a confondere i nomi di due virus. Ilaria decide di dimettersi dal Parlamento e di lasciare l'Italia. Nessuno cerca di fermarla, nessuno scende in piazza, nessuno raccoglie firme, nessuno organizza recital o campagne solidali. Lei resta sola, insieme alla sua innocenza. Vola negli Stati Uniti dove la fama la precede. Un prestigioso centroamericano la accoglie a braccia aperte. I vertici sanno dell'inchiesta in corso in Italia, ma la liquidano per quello che a tutti appare evidente. Si tratta di un'enorme devastante bufala destinata a finire nel nulla e così accade. Nel 2016 il giudice pronuncia le quattro fatidiche parole, il fatto non sussiste. La scienziata racconta il suo calvario in un libro e in un documentario prodotto da Sky, proiettato a Villaponti grazie alla straordinaria serata organizzata da Alfredo Ambrosetti. Con lui e con la protagonista Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Silvio Garattini, l'economista Elio Borgonovi e Carlo Nordio. Quest'ultimo da magistrato tuona contro l'eccesso di potere nelle mani dei PM, resi famosi da media compiacenti in cambio di veline velenose, nutrimento imprescindibile per quella bestia feroce e implacabile chiamato pregiudizio, ingigantita dai social, ostile alla presunzione di innocenza, votata al pubblico annientamento e alla più che probabile impunità dei registi. Garattini insiste sul grande pericolo di quest'epoca, così allergica alla competenza, tanto da mettere in discussione qualunque cosa senza la minima argomentazione, vedi il suo reale dibattito sui vaccini. Monti, oggi senatore a vita, sogna un ritorno in Italia di Ilaria Capua e si augura che la sua sacrosanta rivincita diventi battaglia etica del sistema paese, degradante e degradato se pensiamo alla vicenda nel suo complesso, rassicurante e ancora capace di grandi cose se guardiamo al concentrato di eccellenze che stava gomito a gomito sul palco di Villaponti e agli oltre 400 spettatori accorsi sul colle di Biumo per ascoltarla. Ecco, quella vista ieri sera a Varese è un'Italia che merita il rispetto e la stima dei più, ma è l'Italia dello studio, della conoscenza, del talento, doti che altri paesi bramano, cercano e corteggiano e che qui da noi, ultimamente, sembrano dare fastidio.